Ciao a tutti, sono Annalisa Minelli, sono ingegnere geomatico e sono a sinistra di ricerca CNR Irving di Ancona e socia di successione ecologica da qualche mese. Quello che vi andrò a presentare in questo mini corso di oggi è OpenStreetMap, ovvero il mapping e la cartografia collaborativa con applicazioni in condizioni di emergenza. Vedremo quindi innanzitutto a che cosa serve OpenStreetMap e perché insieme è meglio, infatti OpenStreetMap è un'azione di Voluntary Geographic Information. Vedremo poi praticamente come si può contribuire, quindi quali sono gli strumenti, quali sono le idee di base e poi vedremo l'applicazione alle situazioni di emergenza, partendo da una riflessione sul a che cosa serve una mappa in questo genere di situazioni, quindi vedremo alcuni esempi del progetto Humanitarian OpenStreetMap e un esempio in particolare sarà quello nel caso Covid-19 un'applicazione di OpenStreetMap all'Italia, al caso italiano. Ci sarà poi un piccolo extra sul civic hacking e le comunità informali e quindi nel Bring Back Home faremo una riflessione finale sul perché è importante contribuire e come queste contribuzioni da parte dei singoli cittadini contribuiscono a cambiare la percezione che si ha del territorio. Che dire, vi aspetto!